Aspetta perché qui vedo un attimo un si salvi chi può, chi è che canta? Andiamo! Chi è che canta? Prego! Sì, io devo prendere la chitarra, devo prendere! Dicono tutti così, poi a finire che... Scappiamo! No, io ve lo dico perché io ho fatto dei tentativi canori, però sono pessimi, quindi se voi in qualche modo non mi aiutate... No, allora... Gli ascolti vanno a picco, i voti andranno malissimo... Per voi, per voi! Abbiamoci, vediamo come viene! Buona la prima! Viva in baracca, in su del salario, chi ama l'amore e i sagni di gloria, non stai cantando, no, no... Mi ruba pensioni, mi ha schiazza memoria, ti mangia una volta, ti tira il terzaio, Chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi porta i miei fiali, chi tira sotto il treno, chi ama la zia, chi va a porta via, chi trova scontato, chi com'ha trovato, na, 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 na... Ma il cielo è sempre più, ma il cielo è sempre più, ma il cielo è sempre più, ma il cielo è sempre più... Vai, quella parte veloce, insieme Roma! Chi ha assicurato, chi è stato contato, chi possieda dovuto, tra i miei fiali, chi tra i miei farmacie, chi ha morto di invidia e di gelosia, chi ha tolto ragione, chi ha tolto ragione, chi grida al ladro, chi ha l'anticurdo, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi regisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi pone l'aumento, chi cambia l'aumento. La parca, felice e contento, vai, come ha trovato, il tutto sommato, chi sogna l'aumento, chi gioca l'aumento, chi parte tutti, è in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi pianta brevè, chi copia i maioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la zia, chi è morto di invidia o di gelosia. Chi mangia la mano, chi prende amorevi, chi scrive poesie, chi mangia malate, chi beve un bicchiere, chi solo ogni tanto, chi tutte le sei. Ma il cielo è sempre più, ma il cielo è sempre più. E' così, ringraziamo i nostri invitati ascoltatori, continua Umberto con questo ciclo, e ormai ci vediamo passati al posto della fase finale, penso noi potremmo stare qui tutta la notte, ma purtroppo non ti vogliamo rubare tutti gli altri impegni. Poi avete sentito come canto bene, io sono veramente pronta per Sanremo, direi. E la prossima volta suoni anche la chitarra insieme a noi, diamoci questo. Certo, diciamolo agli ascoltatori prima, così eventualmente non si collegano. Caro Edoardo Conti, non puoi che anche tu condurre qua le... Si, mi associo a questo saluto e all'apprezzamento per Reno Gaetano e per il nostro Umberto Antimi, che non ammetterà mai di suonare. No, mai. E' stata una puntata epocale che rimarrà nella storia dei Revoices del Liceo Scientifico Vostra in Azzerita e di Ice Conradio. Io lancio per primo e poi avrete modo tutti gli altri un saluto, un forte ringraziamento, è stata davvero una bellissima cosa. Sono quei momenti che sono belli e che arricchiscono questo progetto, che uno fa parte, quindi anche per questo dobbiamo ringraziare, almeno io personalmente e le radio, che se no non avrei mai avuto l'occasione di partire. E dei complimenti vanno fatti anche a Edoardo Valentino, che ha trovato questa e tante altre bellissime interviste, quindi... Posso ringraziare per questa bellissima intervista, per questa bellissima esperienza e continuate così, siete bravissimi, peraltro anche a cantare e suonare, diciamo. Grazie. In un futuro ci saranno, con le monetine, con le metropolitane nuove disegnate. Va bene tutti. Francesca, vai. Cosa? Cosa? È la prima? I saluti, i saluti. I saluti memorabili. Devo salutare. Ciao, ciao mamma. E va bene, allora un saluto anche al nostro Umberto Antimi, musicista. Grazie, grazie. Per tutto quello che hai fatto, il doppiatore, tutto. E quindi anche a Virginia Naggi davvero ricordiamo. E ci vediamo alla prossima puntata di The Voiceless del liceo scientifico Manfredia Zerita. Ciao. Ciao. Amo High School Radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. E se una radio è libera, non libra veramente. Veramente mi piace anche di più perché libera la mente. Ascolta High School Radio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.